Due domande. Voi quanti amici reali avete? E vi basta un pollice in su per avere l'approvazione? Ecco, vi parlo di questo perché sono 20 anni da quando è nato Facebook, questo social network che ha cambiato un po' la vita di tutti noi. Ne parliamo con il professore Davide Bennato che insegna Sociologia dei Media Digitale all'Università di Catania. Buongiorno professore, ma prima di venire da lei ripercorriamo insieme al nostro Giorgio Demetrio la storia di Facebook del suo fondatore Mark Zuckerberg. Credo di aver avuto una buona idea. Mi piace, è veramente figo. La gente vuole andare su internet e curiosare sugli amici, allora facciamo un sito che dia a tutti quello che vogliono. In principio, ottobre 2003 era un catalogo dei volti degli studenti, soprattutto delle studentesse di Harvard. Niente dettagli sulle loro storie, solo un'istantanea rubata dall'annuario. Tra gli universitari c'era un certo Mark Elliott Zuckerberg, 19 anni, programmatore già esperto, che raccoglie quelli scatti e dallo studentato li lancia online. Con lui, quelli che diventeranno i fondatori di Facebook, Chris Hughes, Edoardo Saverin e Dustin Moscovitz. Primissimi riscontri da urlo. In quattro ore, FaceMash, l'antesignano, attrae 450 visitatori e oltre 20.000 click. A dicembre 2004, The Facebook, all'inizio con l'articolo, vantaggia un milione di iscritti. Un milione! È fatta! Da quel momento si vola. Mark Zuckerberg lascia l'università e fa decollare l'azienda Palo Alto. Da lì, dalla Silicon Valley, la nostra quotidianità cambierà per sempre. Con Facebook che favorirà amicizie e condivisione di contenuti costruttivi da una parte, che fungerà da vetrina di odiatori dall'altra. L'azienda nel frattempo diventa impero. L'acquisizione di Instagram nel 2012, di WhatsApp nel 2014 per 19 miliardi di dollari. Ragione sociale del nuovo colosso Meta, che apre le porte al mondo parallelo del metaverso. Premessa non del tutto riuscita della prossima sfida griffata Zuckerberg, tra i dieci uomini più ricchi al mondo, of course. La creazione di una super intelligenza artificiale. Professor Bennato, Facebook è stato rivoluzionario. Inutile negarlo. Sì, è stato buongiorno. È stata sicuramente una tecnologia rivoluzionaria, soprattutto perché ha modificato profondamente le strategie con cui noi creiamo relazioni sociali. Questo sicuramente bisogna dargli atto. E questo in un momento in cui le tecnologie digitali stavano cominciando a diventare sempre meno media di massa e sempre più media personali, cioè strumenti per la connettività personale. Facebook in particolare, ma tutta la categoria dei social network che già a partire dal 99 stavano cominciando a crescere, sicuramente ha fatto capire che anche online si poteva costruire una nuova forma di socialità, non sostitutiva dei rapporti personali fatti in presenza, ma integrativa, cioè che poteva modificare ma poteva anche creare nuove forme di relazione sociale. Questo sicuramente è nato grazie ai social network. Ecco, professore, ma com'è cambiato Facebook in questi vent'anni? Allora, diciamo che come tutte le applicazioni che sono nate negli anni 2000, Facebook è cambiato profondamente. Basti pensare che quando è stato lanciato a livello statunitense, per esempio il feed centrale, cioè la bacheca dove noi leggiamo tutti gli aggiornamenti dei nostri contatti, neanche esisteva, quindi bisognava andare profilo su profilo per vedere i vari aggiornamenti e poi le cose sono cambiate profondamente. Questo per dire cosa? Questo per dire che Facebook sicuramente è cambiato perché è diventato prima uno strumento di connettività sociale, poi è diventato uno strumento anche per cui sono entrate a far parte le istituzioni, sia economiche che politiche. Quindi sicuramente si è creato un cortocircuito in cui non solo le persone si trovavano in uno spazio sociale, ma anche Facebook cominciava a orientare le caratteristiche sociali dei contesti culturali in cui si collocava. Infatti non è un caso che Facebook in questi ultimi tempi sta cominciando a investire tantissimo sia sui sistemi di intelligenza artificiale che su tecnologie molto più immersive e sempre più relazionali come ad esempio le tecnologie del metaverso. Ecco professore, rispetto a quello che diceva lei, appunto dal punto di vista finanziario Facebook è in grande salute anche grazie all'intelligenza artificiale, ma il suo fondatore Zuckerberg sta puntando su altre tecnologie. Quindi si può dire che Facebook sia un po' in crisi perché noi sentiamo dire dai ragazzi che magari è un po' un social datato? Questo è profondamente vero, come spesso capita, le innovazioni tecnologiche si sviluppano con una generazione, ma poi tendono a invecchiare comunque la stessa generazione. Basti pensare che i giovanissimi tentano sempre nuove strade per sottrarsi più che altro al controllo degli adulti, al controllo genitoriale per cercare di sviluppare spazi relazionali che gli appartengono personalmente. Questo è successo a Facebook, è successo a Instagram e secondo me nei prossimi anni succederà anche a TikTok. Quello che possiamo dire sostanzialmente è che in realtà quello che si sta cercando in questi ultimi dieci anni nelle tecnologie digitali è la ricerca di una nuova esperienza relazionale. Solo che questa frase non è ben chiara come possa essere declinata. Alcuni pensano alle tecnologie immersive degli occhiali come ha fatto la Apple, alcuni pensano al metaverso, quindi universi tridimensionali a metà tra la realtà virtuale e il videogioco. Non c'è ancora una strada ben delineata. Quello che è sicuramente chiaro è che queste tecnologie cominceranno sempre di più a penetra nella vita di tutti i giorni. Grazie al professor Davide Bennato. Grazie a tutti.